La Giunta della Regione Toscana finanzierà con 16 milioni e 400 mila euro l'elisoccorso. La delibera è stata approvata nel corso dell'ultima seduta della Giunta regionale su proposta dell'assessore alla salute Luigi Marroni. Il finanziamento stanziato sarà ripartito con 6 milioni e 300 mila euro per l'ASL 1 di Massa Carrara e l'ASL 9 di Grosseto, dove operano due elicotteri Pegaso con servizio diurno e notturno. 3 milioni e 800 mila euro alla ASL 10 di Firenze, dove opera Pegaso 1, che fa servizio diurno. Nel 2013 gli elicotteri Pegaso hanno effettuato 2.044 missioni, delle quali 1.851 per attività di soccorso sanitario, che hanno consentito l'ospedalizzazione nei tempi più rapidi possibili, in linea con tutte le indicazioni internazionali, secondo le quali la precocità di intervento condiziona fortemente gli esiti di mortalità e disabilità residua. In Toscana il servizio dell'elisoccorso è attivato dal 1999 ed è organizzato su tre basi operative all'ospedale Santa Maria Annunziata, a Firenze, all'ospedale Misericordia dell'ASL 9 di Grosseto e all'aeroporto del Cinquale a Massa Carrara.